Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città. Buon venerdì, una settimana che si chiude all'insegna del sole, questa a Torino. Tra poco vedremo cosa ci aspetta per la giornata e anche e soprattutto per il weekend. Intanto andiamo a sentire le notizie di viabilità, come sempre con Walter Gerbi dalla Centrale Operativa dei Vigili Urbani. Buon venerdì 25 febbraio, le notizie di oggi, controllo velocità sul Corsi Grosseto, Cairoli, Sacchi e Vanzetti, Francia, Moncadieri, Strada dell'Aeroporto, Via Norato Vigliani, Via Sansovino. Presidi dalle 8 alle 10, fronte Porta Nuova contro gli aumenti GDT, rappresentante sindacale USB. Dalle 9.30 alle 18, dipendenti Agile e Eseuteli a fronte Palazzo Giunta Regionale di Piazza Castello. Dalle 11.30 alle 18.30 in via Reis Romoli 44-11, fronte Posti Italiani, dipendenti GL FIOM. Dalle 10.30 in Piazza Castello, Angolo Via Garibaldi, comitato antirazzista 10 luglio Pro Libia. Dalle 11.00 in Corso Settembrini, fronte Porta 16 Fiat della FIOM contro Cassa Integrazione. Dalle 12.30 alle 14.30 in Piazza Castello, fronte Prefettura, associazione radicale Pro Libia. Dalle 20.00 in Piazza Madama Cristina, festa in Piazza Concerto. Dalle 20.30 al Paraghiaccio, Corso Tazzoli, incontro di hockey tra Real Torino e Gherdenia. Semafono in manutenzione, strada Altesano, uscita taglia dell'Alpi 3-4-5 e Corso Vittorio Emanuele, Angolo Via, Nizza e La Grange, con vigili in centro e in croce. È tutto, buona giornata, buon fine settimana, buon viaggio. Bene, grazie Walter per la viabilità. Noi passiamo a vedere la situazione del tempo che, come vi dicevo, questa mattina è decisamente positiva. C'è il sole a Torino, temperatura in linea con quella di ieri, un pochino salita. Siamo intorno ai 4 gradi, la percepita però è 1,5 perché abbiamo ancora un po' di vento da est-nord-est e un'umidità di sopra del 50%, intorno al 60% circa. Per oggi ci dobbiamo attendere un cielo sereno, temperature massime nell'ordine dei 10 gradi. Domani cambierà qualcosa perché avremo qualche nuvola lungo tutto l'arco della giornata, ma le temperature non saranno sensibilmente diverse, sempre intorno ai 9 gradi circa. Per la giornata di domenica invece è previsto brutto tempo, cielo coperto, temperature che non si discosteranno da quelle di questi giorni, quindi 9-10 gradi le temperature massime. In serata, tarda serata, potrebbe iniziare a piovere, questo nella notte tra domenica e lunedì, specialmente in alta collina potrebbe portare anche a qualche fiocco di neve mista alla pioggia, ma niente di preoccupante dal punto di vista della viabilità. Adesso passiamo a vedere le notizie di Torino Clic, l'agenzia quotidiana della città che, come sapete, è disponibile ogni giorno in formato PDF sulla nostra home page. Due sono le notizie che abbiamo scelto. La prima riguarda un nuovo punto blu in via Bertolotti, nella sede della circoscrizione 1, la circoscrizione Centro Crocetta. Ebbene, da lunedì sarà attivo un nuovo punto blu per il pagamento delle contravvenzioni dei vigili urbani, quindi al codice della strada, e per i bollettini sulle violazioni ICI, Tarsu, COSAP e CIMP. Il punto blu è uno sportello automatico, quindi è possibile pagare queste sanzioni con un semplice pago Bancomat per semplificare le procedure. È aperto durante gli orari di apertura della circoscrizione, quindi dalle 8 alle 17.30, da lunedì al giovedì e chiusura invece alle 15.30 per la giornata del venerdì. L'altra notizia invece riguarda il Nightbuster Music, ovvero un'iniziativa che è stata presentata ieri in collaborazione tra la città, il GTT e il Traffic Festival. Si tratta sostanzialmente di una serie di concerti che ci saranno nelle prossime settimane a Torino che saranno collegati in alcuni punti della città e saranno collegati dalle linee notturne del Nightbuster, cioè le linee che dal 2008 circa, nei weekend, accompagnano i torinesi verso la Movil, linee di trasporto pubblico ovviamente, che hanno avuto circa 60.000 utenti nel primo anno, siamo già arrivati a 200.000 nel 2010. Ieri è stato presentato il cartellone che trovate sul sito nightbustermusic.it, vi dico soltanto che si comincia il 4 di marzo con il concerto dei Verdena di Hiroshima Mon Amour e degli israeliani Monotonics allo spazio 211 di Via Cigna. Ci saranno ovviamente delle linee che collegheranno i due punti. Adesso andiamo alla nostra homepage, andiamo a vedere che notizia abbiamo scelto per voi questa mattina. Si tratta della notizia relativa al cambio di anagrafe, cambio della sede, diciamo, di una delle anagrafi della circoscrizione 3 perché a partire da quest'oggi chiude definitivamente l'anagrafe di Via Montortigara 95, rimane ovviamente quella di Corso Raconigi, la nuova sede anagrafica sarà quella di Via De Santis 12 e riaprirà lunedì 7 marzo. Trovate le informazioni a partire dalla notizia. Ora andiamo a vedere la situazione del traffico con le telecamere del Consorzio 5T. Qui siamo al Ponte Isabella su Corso Moncalieri. Vedete, situazione tranquilla, non c'è nessun problema per la circolazione. Qui invece è il Rondò della Forca in direzione ovest su Corso Regina Margherita. Anche qui non ci sono particolari problemi per quanto riguarda il traffico. Ci spostiamo invece alla Rotonda Maroncelli, zona sud della città. Qui invece, come vedete, il traffico è assolutamente intenso in questo momento. E infine andiamo a chiudere con la situazione su Corso Vittorio all'angolo con Corso Massimo D'Azeglio. Vedete, traffico che scorre, anche se la sede stradale è in questo momento impegnata da un po' di auto. Bene, è tutto per questa mattina. Allora, grazie per averci seguito. Grazie a Paolo Mosso per la messa in onda del giornale. A voi l'augurio di una buona giornata e di un bel fine settimana. Grazie a Paolo Mosso per la messa in onda del giornale.